Questo signore che è Matteo Renzi. Che continua con la Leopolda. Sì, continua con la Leopolda. E' un format che neanche è grande fratello. Continua con la Leopolda dove però lei è stata nel 2013. Lei allora, come molti... 20 Renzi fa. Ecco, come molti allora credeva in Renzi. A me piaceva perché era uno che diceva pane pane al vino al vino. Poi diceva che i piccoli partiti non dovevano... Non poteva rompere lo scenario politico più grande. Diceva che non sarebbe mai diventato presidente del Consiglio. Senza elezioni. Senza elezioni. Diceva un sacco di cose. Poi diciamo che la cosa che a me ha fatto più impressionante... Continuo a pensare che sia... Gamba come politico. Sia un politico che se fosse stato di sinistra sarebbe stato perfetto. Io mi ricordo Michele Serra una volta disse... C'era le... Dico Michele Serra, non si casomai, si è fatto alla querela. Scrisse, si doveva votare per le primarie. E disse io voto da Leopolda perché è uno stronzo. Politicamente parlando. Ecco un po'... Renzi aveva quella punta di stronzaggine che andava bene. E poi diceva, perdeva e diceva ho perso. Poi a un certo punto, immagino che io credo che quando sei diventato presidente del Consiglio parli con Barack Obama, parli con... Mollare tutto è difficile. Mollare tutto è difficilissimo. Poi ha fatto una cosa che per me è, dai miei occhi, la cosa peggiore è che è un senatore della Repubblica tecnicamente pagato da un paese straniero. Questa cosa è una cosa che cancella i referendum su tutti i mondiali. Ma torniamo all'Eleopolda e guardiamo cosa fece lei all'Eleopolda. Quella del 2020. E' stato beccato dai carabinieri di Pergusa a parlare con Raffaele Bevilacqua, che è un mafioso, e parlava di raccomandazioni di appalti. Diceva, il mafioso chiedeva a Crisafulli ma questo appalto a chi l'hai dato? E lui diceva, l'ho data a questa azienda, non mi rompe perché non si fa come dico io. Il Crisafulli al mafioso. Ora io mi chiedo, e lo ripeto, sarà un retorico, scusate, ma come, ve lo dico alla siciliana, ma come minchia fai il Partito Democratico ad avere uno come Crisafulli? Il Partito Democratico indirettamente era il partito di Pio Latorre. Pio Latorre! Ecco, una denuncia fortissima davanti al pubblico dell'Eleopolda che applaude e concorde. Anche i seguaci di Renzi, oggi all'Eleopolda lei non potrebbe ripetere una cosa del genere. No, devo dire che fra tutte le cose che ha fatto Renzi, però questa l'ha mantenuta, nel senso che questo Crisafulli, tra l'altro lo vorrei dire, io l'ho lessi in un libro di Gomez, Liria Abate, non so se Gomez è venuto qua a fare confessioni, e tra l'altro sono stato pure correlato. E l'ha vinta o l'ho persa? No, ma io l'ho scoperto perché dovevo rinnovare il passaporto, la polizia tra l'altro venisse, ma ha problemi di dire con la legge. Perché c'è una cosa da enna. In realtà è stata archiviata, io non sono mai stato informato, però lo dico alla polizia di frontiera, io è stato cancellato, dovrei andare al tribunale di Palermo. Perché ha detto la verità, mi trova letta nel libro mio di Liria Abate. Esatto, casomai dico, ma no, la cosa che ha fatto ridere è che lui mi ha denunciato a quel relato, non perché ho detto che si incontrava con un mafioso, ma perché ho detto cacciato dal Partito Democratico, che questo ti fa capire l'Italia. Ma lo ripeto, io non la faccio su una questione penale, è una questione morale. Se io sono sindaco di un paese e ogni sera vado a cena a casa del mafioso che magari è stato in carcere per mafia, dal punto di vista penale... Non è un reato. Non è un reato, ma dal punto di vista morale mi dovrò porre io cittadino due parole. Ecco, fino a quando la lotta alla mafia non la si vive come una questione morale, non andremo da nessuna parte perché la magistratura può fare quello che può fare quando il reato è stato scoperto.